Sì, grazie Presidente. Innanzitutto voglio ringraziare anche io con darmi ringraziamenti all'ufficio legislativo del Consiglio che ha fatto un gran lavoro, prendendo un po' di legislazione che c'era in altre regioni, anche se era molto carente, quindi hanno dovuto lavorare molto. Dopodiché mi spiace la strumentalizzazione del Partito Democratico che ha deciso di chiamarsi fuori da questa votazione e invece ringrazio il patto civico per la serietà dimostrata. Ho sentito parlare di timidezza nel provvedimento, ci abbiamo lavorato più di due mesi, c'è stato un gruppo di lavoro della Commissione, il Partito Democratico avrebbe potuto partecipare e portare le proprie proposte se le aveva e invece si trova in aula a sfilarsi e a dire che ci voleva più coraggio e bisognava fare le cose meglio. Potevano partecipare, portare il loro contributo e le porte erano aperte per tutti come le lasciamo sempre aperte quando vogliamo costruire nell'interesse dei cittadini lombardi. Quindi ribadisco chiaramente il voto favorevole del Movimento 5 Stelle e ringrazio i gruppi e gli uffici che hanno collaborato alla costruzione di questo provvedimento che è importante.